La 33esima edizione della Fiera dell'Agricoltura di Terramo si è conclusa anche quest'anno con successo. Probabilmente sono state superate le presenze anche dello scorso anno? Sì, con buona probabilità questo è accaduto. Noi non abbiamo una modalità di conteggio delle persone che ci dà un numero esatto, però avendo avuto un giorno in più sicuramente questo è qualcosa di possibile. In particolare la giornata di domenica è stata una giornata nella quale le presenze, forse la giornata in assoluto da quando sono presidente del Comitato Fiera con più presenze, perché il Parco Fluviale è stato preso completamente d'assalto, non solo le vie delle esposizioni, ma anche tutta la parte centrale del Prato era piena di famiglie, di avventori, che sono rimasti poi durante tutto il giorno e questo è anche il bello dell'area del Parco Fluviale. Quindi è un po' un'edizione dei record perché sia come espositori sia come presenze insomma abbiamo raggiunto gli apici probabilmente. Il Parco Fluviale si conferma location ideale per questa manifestazione? Sì lo è, anche perché abbiamo la possibilità di allungare ulteriormente gli spazi espositivi su aree aggiuntive. È chiaro che abbiamo un confronto continuo con gli espositori e possiamo e dobbiamo migliorare ancora. È un po' quello che vogliamo fare con il Comitato Fiera, aumentare sia gli spazi ma soprattutto aumentare anche la qualità espositiva.